dato premier Luigi Di Maio. Noi abbiamo analizzato le due interviste che potete trovare in streaming sul sito della Rai e confrontarle e abbiamo notato alcune differenze. In 30 minuti di intervista a Berlusconi Fazio ha posto 10 domande, compresa quella sul Milan, e lo ha interrotto solo tre volte. In 28 minuti Fazio ha posto 21 domande a Luigi Di Maio e lo ha interrotto 16 volte, 16.